In giro si dice che Cesar Morales si è su un cargo ormeggiato al porto. Andremo là e lo faremo saltare in aria. Non sarebbe più facile trovare Morales e sparargli. Ah, è un buon piano. Ho cervello io. E come facciamo a far saltare la nave? Siamo indietro una bomba. Ma poi chi diavolo sarebbe questo Morales? Politicos. E anche il boss locale della droga. In pratica controlla tutta la città. Calma, amico. Pensa a liberare la strada. Io porterò il camion in posizione. E poi boom! Genre, amico. Pinchito un pozo. Che te fierro. Che chingados. Si está, lo tengo. Apre il cancello! Qui ci sono! Ahah! Qui ci sono! Ohhhh! 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 Ohhhhh! Ohhhh! Ohhhhhhh! Ohhhh! Sì. 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 Vai avanti con la bomba! Sì. 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 Vami entrare, Ram! Vamo in mare! Sua nave salpa! Sì. Quisока! Sì. Che stai aspettando, Marco? Eh, a merda! Vamo in mare! Matteno al polizia! Vamo in mare! Scusami, eri di troppo. Aprimi la porta! Vamo in mare! Scusami, eri tut blir building de afforder. ut Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.